Aperto a Palazzo Tornacuinci della Stufa in Borgo Albizzi, il Museo delle Illusioni, 600 metri quadri di mostra permanente che mescolano arte, scienza, la fisica e l'ottica. Un polo interattivo all'insegna del divertimento, a vivere un'esperienza educativa diversa da quelle che tradizionalmente offrono i classici musei. Disegni, giochi di luci e ombre, specchi e colori, effetti visivi, indovinelli, racconti incredibili sulla storia e la scienza e anche opere d'arte misteriose capaci di coinvolgere attivamente. Siamo molto fieri di questo nostro museo in via Borgo degli Albizzi, che è una delle vie principali di Firenze. Siamo molto orgogliosi che il Palazzo Tornacuinci della Stufa, un palazzo storico che prima di noi ospitava due cinema durante il secolo, sta ospitando la nostra mostra. Questo è il nostro quinto museo che apriamo in Europa. Siamo partiti sei anni fa a Vilnius. Il nostro museo delle illusioni è un museo interattivo, uno dei nostri obiettivi principali è imparare divertendosi. Si trovano varie illusioni che possano divertire sia grandi che piccoli.